Ciao, la tisana Kafa Dren, un vero alleato quando le nostre gambe sono appesantite da liquidi in eccesso. Grazie ai principi attivi contenuti andremo sempre a fare una forte azione di depurazione degli organi, in particolare del fegato, aiutando a liberare questi filtri dalle tossine e aiutando il drenaggio dei liquidi che si accumulano solitamente nelle nostre gambe. Usala a quattro misurini da 10 ml diluita in un litro e mezzo d'acqua e bevila durante tutta la giornata, ricordati di conservarla in frigorifero e di agitarla prima dell'uso.